Ciao Giovanni, come è andata? Bene, grazie di tutto alla grande, ha vinto la beneficenza. La beneficenza vince sempre e quello è importante. Giovanni, ricordiamo la tua pagina, Giovanni Calì, dove ti trovano? Su Facebook e Twitter? Su Facebook siamo lì come nazionale attore e cantante e lì abbiamo questo Giovanni, questo amicone. Vieni qua Giovanni! Ecco Giovanni, vieni qui! Sono arrivati i secondi, hanno dato il massimo, molti infortunati, abbiamo anche qui il bomber. Matteo, ecco, lo facciamo venire. Ma abbiamo l'ex disturbatore che adesso è diventato il salutatore, salutiamoci. Rocco, Rocco, vieni anche tu, vieni. Si è fortunato anche Rocco, si è fortunato. Permesso, permesso, permesso. Permesso, 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 nonostante ciò, sono arrivati i secondi, abbiamo, sì, con il salutatore, abbiamo anche... Hermes Greco. Hermes Greco, però l'importante è che ha vinto la beneficenza. La beneficenza, dai. La solidarietà, ragazzi, mi raccomando, anche perché se diciamo... Ragazzi, io voglio dire, ha vinto la beneficenza, troppo fermo, non mangiate un cazzo. Ecco, salutiamo tutti i fanci della nazionale attori e cantanti. Ciao. Chi è costumi? Vazzo.